L'estorsione bomba carta è esplosa questa notte al bar Elite. Dopo quella al bar Viole alla tabaccheria di Via Piave, ieri un'altra bomba è esplosa, questa volta è danno nel bar Elite di fronte al tribunale. Ancora una volta la criminalità fa sentire la propria voce tentando di intimidire i commercianti. Avviate le indagini dei carabinieri del comando provinciale che per il momento non escludono nessuna ipotesi, tra cui quella del racket dell'estorsione. Fratelli d'Italia esprime solidarietà e vicinanza al titolare contro il vile gesto intimidatorio. I cittadini non lasceranno soli titolari e dipendenti in questo momento di scoramento. Ma questa volta Fratelli d'Italia non parteciperà ad alcuna manifestazione insieme agli altri soggetti politici che avevano formulato promesse di interventi di rafforzamento dei controlli e delle azioni di prevenzione che, come tanti immaginavano, non sono state mantenute. Avevamo chiesto di intervenire per sollecitare e incentivare i condomini e i commercianti a installare le telecamere di sorveglianza sulle strade cittadine. Avevamo chiesto maggiori risorse per le forze dell'ordine e ripristino dei poliziotti e dei carabinieri di quartiere per avvicinare lo Stato e le cittadine. Abbiamo più volte evidenziato come la sicurezza a Siracusa sia diventata una priorità e continuano a verificarsi purtroppo ulteriori episodi delinquenziali. Quanto devono subire ancora i nostri cittadini? Facciamo un rispettoso appello alle forze dell'ordine, sempre impegnate con forte senso di abnegazione nel contrasto alla criminalità, perché si accerti subito l'identità dell'autore e degli autori dell'atto delinquenziale. Ma non possiamo tollerare ulteriori omissioni di chi è il governo del nostro Paese, che può intervenire energicamente e concretamente, ma si limita a promesse sfilate. Troppi commercianti aspettano giustizia e tutti i cittadini e i commercianti pretendono maggiore prevenzione e controlli. Grazie.